Molti anni fa quella che adesso vedete inquadrata era un'area balneabile. I bambini, i ragazzi, tutti coloro che abitavano nell'isola Centro Storico, siamo ad Augusta, un'isola che ricorda quella di Ortigia, venivano a farsi bagni in quest'area sotto la cosiddetta Madonna delle Grazie e più avanti nell'area della cosiddetta Badiazza. Perché ci ritroviamo qui adesso? Perché si tratta di una zona non balneabile e questo dipende dal problema del depuratore, un discorso complesso che vorremmo e forse affronteremo in un altro momento. Siamo qui per segnalare un fatto che è increscioso per via della solida burocrazia ministeriale e regionale che volete, negrittosa, abulica o per altri motivi, adesso li lasciamo in sospeso questi altri motivi, forse anche da parte di politici arroganti. Siamo qui perché qui doveva sorgere il porticolo turistico di Augusta, questo addirittura doveva sorgere già oltre un anno fa. Qui dovevano esserci già i lavori in corso, bisogna dare uno sbocco anche all'occupazione. Abbiamo sentito recentemente Carmelo Luturco, segretario della Camera del Lavoro di Augusta, il quale ci ha parlato di 6.000 persone disoccupate ad Augusta, fra questi 6.000 molti giovani mai occupati che vanno all'estero per poter lavorare o di gente che lavora in nero. Qui poteva esserci un'occasione, uno sbocco per quanti anni, certamente un periodo relativo, però poi sarebbe stata un'occupazione stabile perché una famiglia, ospitalità, alberghi, cioè ristoranti, legati al porticolo turistico. Augusta è una città splendida, per il suo mare, per le sue scogliere, non abbiamo un porticolo turistico come c'era per esempio Marina di Ragusa, un porticolo turistico dove sbarcano anche i cosiddetti VIP. Quindi tanto per darvi l'idea, parlo di Marina di Ragusa, qui nonostante gli accordi ormai sigrati, stabiliti, è venuto qui persino l'ex governatore della Sicilia, Lombardo. Ebbene adesso abbiamo da un anno, più di un anno o un anno e mezzo, il signor Crocetta di Gela e ancora non abbiamo questo porticolo turistico. Noi abbiamo tentato di sentire responsabile al fiofazio di questa iniziativa, il quale tempo fa ci disse che forse i soci lo avrebbero abbandonato se ancora questa situazione fosse perdonata nel tempo. Speriamo di sentire al fiofazio che ci dica presto, nei prossimi giorni, incominceremo i lavori, quando? Ecco, lo sentiremo, lo vedremo. Certo sarebbe una bella idea, non soltanto per coloro che potrebbero avere qui occupazione, ma per tutta Augusta, perché finalmente Augusta potrebbe diventare veramente, almeno d'estate, durante la bella stagione, un centro di interesse turistico.